Partiamo da questa domanda. Perché? Perché avete scelto di intraprendere il cammino sul quale vi ritrovate oggi? Siete contenti della scelta e dove vi sta portando? Come è cambiato il percorso negli anni? Pensate a se sua strada giusta per realizzare i vostri sogni? Oppure circostanze della vita vi hanno portato a riconsiderare i vostri obiettivi? Io sono nato cresciuto nel New Jersey e sono stato educato secondo i valori cristiani. Si potrebbe dire che mio primo supererrore era Gesù, perché le sue parabole sulla guarigione dei malati erano di grande ispirazione per me. E questa fu una delle ragioni che mi portarono a decidere la mia vita e guardare al prossimo. Come molti di voi sono cresciuti in una famiglia molto numerosa. Spesso passavamo dal tempo con i nostri nonni, sia da parte materna che materna. A me è sempre parso strano che le persone dovessero cambiare così tanto invecchiando. Intorno ai dieci anni mi convinsi che diventare vecchio fosse qualcosa che non volevo fare. Intorno ai quindici anni accade qualcosa che cambiò la mia vita per sempre. Ero seduto sul divano a guardare il Merv Griffin Show e come ospite c'era Dirk Pearson. Dirk Pearson e Sandy Shaw avevano scritto il libro Life Extension, Estensione della vita. E così ascoltai i resoconti e le loro ricerche che avevano condotte negli anni settanta per allentare o invertire il processo dell'invecchiamento. Quella cosa mi sconvolse totalmente. Uscì subito e andai a comprare una copia del libro e l'ho lessi tante volte. Da allora non ho mai smesso di cercare delle soluzioni volte all'inversione del processo dell'invecchiamento. Ci sono molte buone ragioni per cercare una soluzione al problema dell'invecchiamento. La prima è che l'invecchiamento è una malattia, è un processo distruttivo che rende gli individui sempre più inabili sia dal punto di vista fisico che mentale. Fermare l'invecchiamento consentirebbe alle persone di mantenere le capacità fisiche e mentali inalterate. La seconda ragione è che l'invecchiamento riduce il potenziale di un individuo. Pensate a tutte le informazioni ed esperienze che avete acquisito nel corso della vostra vita. Immaginate cosa sareste in grado di fare con quelle esperienze e tutto il bene che potreste fare se l'invecchiamento non vi limitasse e non vi costringesse al pensionamento. La terza ragione è che l'invecchiamento porta le persone a cambiare mentalità. Quando erano giovani le persone avevano dei sogni da realizzare perché sapevano di avere una lunga vita davanti a loro. Ma poi con l'invecchiamento le persone vedono ridursi il tempo a disposizione per realizzare le cose che vogliono. E quindi molti semplicemente smettono di sognare. Se l'invecchiamento non fosse un fattore limitante le persone avrebbero più tempo per realizzare i loro sogni. Ma c'è anche un impatto di tipo pratico da considerare, ossia come cambierebbe la società se le persone non invecchiassero più nel mondo in cui lo fanno oggi. In primis i costi del sistema sanitario e delle assicurazioni crollerebbe a picco perché una popolazione più giovane ed in salute sarebbe più immune alle malattie. Tutti i disordini che associamo all'invecchiamento scomparirebbero. Con il progresso delle scienze delle cellule staminali quasi tutte le malattie diventeranno un ricordo del passato e quindi i sistemi sanitari cambierebbero radicalmente ed in positivo. Ci sarebbero anche enormi benefici per il comparto produttivo. Immaginate come sarebbe lavorare con qualcuno con più di 50 anni di esperienza nel suo settore. Esperienza che non sarebbe certo facilmente rimpiazzabile e tutte le persone che sarebbero andate in pensione continuerebbero a versare dei contributi nel sistema in modo prima impensabile. Quindi fermare o invertire il processo dell'invecchiamento ci costringerebbe anche come specie vivente ad essere più responsabili in relazione al benessere del nostro pianeta. Se i politici sapessero che potrebbero vivere per varie centinaia di anni forse cambierebbero il modo in cui pensano alle politiche che influiscono sull'ambiente. Tutti vogliamo aria pulita, acqua pulita, cibo organico, sostenibilità e la conservazione delle risorse naturali della terra. Se le persone sapessero di poter vivere più a lungo forse avrebbero più a cuore l'impatto che le loro vite hanno sul mondo in cui vivono. Quindi direi che possiamo ricordare che l'invecchiamento è un problema che va risolto, ma come possiamo risolverlo? Dopotutto gli esseri umani hanno cercato la fonte della giovinezza da migliaia d'anni ormai. Fortunatamente Dio ha fornito agli uomini un modo per arrivare a quell'obiettivo e si tratta di una risposta che ci viene dalla natura. Quando ci rivolgiamo alla natura in cerca di soluzioni, troviamo sempre soluzioni che sono in armonia con il mondo che ci circonda. Ad esempio, si è scoperto che esistono aragoste che hanno 130 anni e che non sono mai invecchiate. Anzi, ogni anno diventano sempre più forti. E tutto questo accade senza l'uso di medicinali o interventi esterni. È un processo naturale. Qual è dunque il segreto dell'aragoste? L'aragoste produce una quantità infinita di un enzima chiamato telomerasi. Quindi le loro cellule si possono moltiplicare un infinito numero di volte senza invecchiare durante il processo. Ma ci sono dei molluschi che vivono fino a 500 anni e non invecchiano mai per questo lungo periodo di tempo. Qual è il segreto dei molluschi? Tra le altre cose hanno un controllo totale sullo stress ossidativo ed infiammatorio. Quindi le loro cellule non sperimentano mai alcun tipo di danno che non può essere riparato. Anche gli alberi sono un esempio perfetto. Gli alberi vivono per migliaia di anni. La spugna di mare ha un'aspettativa di vita di oltre 11.000 anni. E alcune forme di vita, come le meduse immortali e i tardigradi, non sembrano avere alcun limite d'età. Sono immortali. Fermatevi a rifletterci per un istante. Per millenni gli esseri umani hanno sognato l'immortalità e molti sono stati sempre scettici sul fatto che fosse un obiettivo raggiungibile. Ma in realtà, senza che i nostri antenati lo sapessero, esistevano già forme di vita su questo pianeta, considerabili, considerate immortali. Come sarebbe cambiata la mentalità delle persone vissute nei secoli passati se solo avessero saputo che c'erano forme di vita che avevano raggiunto un obiettivo all'apparenza impossibile? Cioè di non invecchiare mai? Come cambierebbe la mentalità se sapeste che fermare o invertire processi di invecchiamento fosse possibile? Vi faccio esempio del miglio in quattro minuti. Gli esperti affermavano che il corpo umano non fosse stato in grado di percorrere la distanza di un miglio in quattro minuti. Non era possibile, sia secondo gli atleti che secondo gli scienziati. Negli anni 40 il record rimase fisso a quattro minuti ed un secondo e ci rimase per nove anni, convincendo i corridori che forse ciò che diciamo gli esperti era vero e che il corpo umano aveva raggiunto i suoi limiti. Poi il 6 maggio del 54 Roger Bannister infranse la barriera dei quattro minuti correndo un miglio in tre minuti e 59 secondi. Come riuscì nell'impresa Roger Bannister? Fu detto che come parte del suo allenamento era solito visualizzare l'obiettivo di modo da creare un senso nella mente e nel corpo di questo ottenimento. Appena un anno dopo l'impresa di Bannister un altro atleta corse il miglio in meno di quattro minuti e in seguito anche gli altri fece lo stesso. Adesso è quasi un gioco da ragazzi, nel senso che anche i liceali ben allenati riescono a farlo. Il morale della storia è dunque chiaro. Una volta che il sistema di credenze viene cambiato, fare qualcosa che prima sembrava impossibile diventa quasi comune. Accadrà lo stesso con l'invecchiamento? Dopo che il primo essere umano riuscirà a farlo, anche tutti gli altri lo seguiranno? E se invece scoprissimo che è già successo? La domanda adesso è, possiamo scoprire e capire come fanno alcune specie ad essere, ad evitare l'invecchiamento? Possiamo imparare il loro segreto e usarlo su noi stessi? La risposta è sì. Ed è ciò che stiamo facendo oggi stesso. Noi di LifeWave investighiamo la strada, le strade che portano all'inversione del processo di invecchiamento. Siamo riusciti con successo ad invertire parzialmente il processo di invecchiamento negli umani. E i test ematici lo confermano. Ma come possiamo misurare ciò analiticamente? Ci sono vari modi per farlo. Invecchiando, il numero di volte in cui le cellule può dividersi diminuisce. Alla fine le cellule perdono l'abilità di dividersi, fino a quando non ci sono più nuove cellule. Si tratta di ciò che viene definito il limite di Hayflick e viene associato alla lunghezza dei telomeri, ossia la regione terminale dei cromosomi. Quando le cellule si dividono i telomeri si accorciano. Quindi i telomeri scompaiono, le cellule non possono più dividersi e quindi ci avviciniamo alla morte. Incredibilmente le cellule cancerogene sono immortali perché i loro telomeri non si accorciano mai. Quindi se gli umani riuscissero ad evitare che i telomeri si accorciassero, riuscirebbero a raggiungere l'obiettivo dell'inversione del processo di invecchiamento. Come abbiamo già detto prima, le aragoste hanno l'abilità di rimanere giovani per tutta la loro vita. E questo in parte dovuto al fatto che i loro telomeri non si accorciano mai. In sostanza non stiamo cercando di scoprire qualcosa di nuovo che sarebbe estremamente complicato, ma solo di applicare a noi esseri umani una cosa che le aragoste e altre specie già fanno. Ci sono però altri fattori in campo, oltre alla lunghezza dei telomeri. Per arrivare all'inversione del processo di invecchiamento dobbiamo anche gestire l'infiammazione e lo stress ossidativo, proteggere l'espressione dei geni, mantenere le cellule idratate e mantenere la produzione di energia nell'area della cellula che si chiama mitocondrio. Facendo tutte queste cose potremo proteggere l'integrità e la struttura della cellula ed inibire in modo drastico l'invecchiamento. Fortunatamente esistono dei test e delle strumentazioni che ci consentono di monitorare tutti questi parametri. I test emetici e dell'urina ci aiutano a tenere traccia dei cambiamenti nell'infiammazione e nello stress ossidativo. Strumentazioni come RGL e il GDV e il Biopulsar e la risposta galvanica della pelle ci consentono di monitorare la salute dei mitocondri e l'attività bioelettrica delle cellule e di migliorarle nel tempo. Anche l'analisi dei biofotoni ci permette di determinare lo stato di coesione delle cellule che è associato all'età della persona. Dovremmo specificare che mentre la ricerca per lo sviluppo di nuovi cerotti LifeWave è sempre in movimento ci sono anche altre tecnologie per raggiungere questo obiettivo. Si tratta di una tecnologia biomimetica, ossia si è cercato di copiare i processi naturali e di applicarli agli esseri umani nella speranza che si arrivi ad una nuova tecnologia o prodotto capace di migliorare la qualità della vita. Guardiamo ad un esempio in natura e a come la ricerca stia cercando dei modi per creare delle tecnologie che ci consentono di arrivare ad un drammatico aumento dell'aspettativa di vita umana. Recentemente è venuta fuori una storia legata alla formica Thermothorax. In apparenza questa specie di formica può venire infettata da un verme solitario parassitario che risiede nel loro intestino. Ciò che è interessante è che la relazione tra la formica ed il verme solitario è simbiotica, cioè le due specie si aiutano a vicenda. Il verme solitario beneficia da questa relazione perché la formica gli fornisce cibo e riparo. La formica all'altro lato ci guadagna in termini di giovinezza e aspettativa di vita maggiore. La formica non invecchia mai e la sua aspettativa di vita aumenta di 5 o 6 volte rispetto al normale. Non vi piacerebbe vivere fino a 500 anni senza mai invecchiare? Dopo alcune indagini è stato scoperto che il verme solitario porta specifici geni della formica ad esprimersi e questo porta la formica a produrre più energia rispetto al normale. Questa scoperta è in linea con i concetti che noi ed altri abbiamo indagato, ossia che aumentando la produzione di energia nelle cellule i geni si risettano ad uno stadio più giovane, invertendo quindi il processo dell'invecchiamento. Quindi, in altre parole, sapendo che esiste in natura un processo che consente alle formiche di non invecchiare mai e di vivere fino a 6 volte più a lungo, possiamo cercare di creare una tecnologia che mimi questo processo in modo non nocivo per noi e testare il processo nei nostri laboratori in relazione alla sicurezza ed efficacia e poi passare ai test sull'uomo. Il processo di sviluppo di questa tecnologia è già in fase avanzata e ci aspetta un futuro radioso. Siamo sulla strada per arrivare all'inversione del processo di invecchiamento negli umani e non vediamo l'ora di rilasciare una serie di nuovi prodotti nei prossimi anni per permettere di unirvi a noi in questo cammino. Spesso quando ci troviamo ad affrontare dei problemi pensiamo che siano troppo grandi e impossibili forse da superare, come nel caso del problema di invecchiamento, ma possiamo sempre superare le sfide quotidiane e anche le sfide più grandi. Per quanto difficili le situazioni possano sembrare c'è sempre una soluzione e con questa nuova più lunga e più salutare vita, immaginate quanti sogni potrete ancora realizzare per vivere a pieno la vostra vita. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo in questa vita di modo da rendere questo pianeta un posto migliore. Non vediamo l'ora di fornirvi gli strumenti di modo che possiate realizzare i vostri sogni. Abbiate il tempo di cui avete bisogno per farlo e possiate creare la vostra storia di successo.